Oltre alla rievocazione storica di folklore del gioco del pozzo che impegna fisicamente tutti i partecipanti in partite probanti sotto molti punti di vista diversi quasi come fosse un'attività sportiva, l'amministrazione comunale di Montevarchi ha pensato di inserire in continuità con quanto fatto anche l'anno scorso una importante componente di iniziative dedicate allo sport tra quelle che animeranno il perdono di paese quest'anno. In queste feste del perdono ci sarà anche chiaramente delle attività legate allo sport, lo sport sarà centrale anche quest'anno nella festa del perdono oltre alla tradizionale gara Sironofri organizzata alla Polisportiva Rinascita che come tutti gli anni viene riproposta partendo ovviamente dal centro storico di Montevarchi e poi andando anche intorno a Montevarchi, ma quest'anno ci saranno nuovamente le esibizioni in Piazza 20 Settembre sia delle due società di ginnastica Giglio e Aurora sia anche delle nostre società di danza quindi Studio Caroline e Accademia Karate Fitness Club. Oltre a questo verrà riproposta dopo il grande successo dello scorso anno l'area sport in Piazza della Repubblica, come l'anno scorso ci saranno varie tipologie di aree sport, nel senso ci sarà sia gazebo sia la possibilità di fare il prova allo sport, cioè i ragazzi possono venire e provare una disciplina sportiva e sia anche delle piccole esibizioni fatte proprio dalle società. Questo verrà fatto ovviamente tutto intorno a Piazza della Repubblica e nell'ultima parte di Via Dante. Abbiamo anche numerose novità rispetto allo scorso anno, una a cui tengo particolarmente è la presenza del CONI che quest'anno sarà presente con un proprio gazebo, sarà un momento organizzato proprio dal CONI in cui ci sarà una restituzione alla cittadinanza del bellissimo progetto che abbiamo portato avanti di sport e inclusione per i ragazzi con disabilità cognitiva, ovvero in Montevarchi, un progetto che è stato portato avanti con cinque società sportive del territorio e che vedrà in questa festa del perdono, in quest'area sport, un momento appunto di restituzione alla cittadinanza e anche di spiegazione di quello che poi è stato fatto per tutti i cittadini. Tante insomma le iniziative sportive da vivere per tutte le età e tutti i gusti.